Siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino, il programma di Fano TV che come ormai ben sapete ogni lunedì sera ospita i vari sindaci del territorio provinciale e marchigiano. Questa sera è tornato a trovarci il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ricordo ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviare un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250, numeri di telefono che comunque troverete in sovrimpressione. Sindaco, abbiamo appreso proprio oggi la notizia della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero per i due ragazzi indagati nell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. L'8 di dicembre sarà il giorno del ricordo, avete pensato ad una serie di iniziative tra le quali una celebrazione nel Duomo di Senigallia per ricordare appunto le vittime morte nella calca. Ricordiamo anche i loro nomi, Emma Fabini, Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Mattia Orlandi e poi la mamma di 39 anni Eleonora Girolimini. Dunque si parte già sin dal mattino con queste iniziative che avete presentato proprio nei giorni scorsi. Sì, è stata la volontà del Comitato dei Genitori, il Cogeo, con la Presidente Luigi Nabucci che hanno attivato questo bel percorso che da una parte va a ricordare e dall'altra parte vuol dare speranza e prospettiva e quindi i giovani coinvolti, tante iniziative per valutare come ci si può divertire senza compromettere la vita. E questo penso che è il segnale che vogliamo dare, che parte dalla nostra città, che è stata particolarmente colpita e che vogliamo condividere con i tanti ragazzi e le tante ragazze che parteciperanno sicuro a questo evento. Quindi una giornata dedicata appunto al ricordo di queste vittime ma anche si prevede una grande partecipazione di questi ragazzi con delle iniziative a loro dedicate. Sì, abbiamo costruito con loro, l'amministrazione è stata al fianco, l'abbiamo lasciata in molto fare come si dice. Avete un po' coordinato la situazione. Esatto, c'è stata tanta collaborazione, il Comitato dei Genitori, il Garante dei Diritti dei Ragazzi e delle Ragazze, dell'infanzia. Penso alla stessa regione con il Presidente Ceriscioli che ha sostenuto fortemente l'iniziativa. E poi un gruppo di ragazzi che hanno costruito il progetto. Sono loro che sono i protagonisti in positivo per non dimenticare ma per rilanciare anche e dare speranza. Andiamo avanti ancora con la cronaca perché in questo periodo purtroppo le mareggiate si sono abbattute lungo tutta la costa adriatica senza risparmiare Senigallia. Quindi danni che sono stati provocati appunto agli stabilimenti balneari, problema anche dell'erosione della costa. Beh sì, un problema articolato che non ha interessato solo Venezia ma tutta la costa adriatica. In modo particolare la parte sud del territorio marchigiano, penso i Montemarciano in modo particolare. Ma anche Senigallia ne ha risentito tanto perché comunque sono state mareggiate straordinarie. L'acqua è arrivata fino al muretto Parasabbia, soprattutto dalla rotonda in giù e facendo dei danni abbastanza consistenti. Infatti anche Confcommercio ha chiesto alla regione l'attivazione dello stato di emergenza, ha richiesto appunto un incontro per cercare un po' di capire e fare anche una conta dei danni purtroppo. Ma quando si parla anche di sicurezza si può parlare del MISA. Il MISA che ricordiamo è una competenza a livello regionale. Almeno l'abbiamo acclarata, c'è un percorso oggi da parte della regione che ha avvocato a sé tutte le competenze, non è più distribuita tra regione e provincia come lo era prima. Si stanno facendo tanti lavori, qualche volta anche un po' contestati perché il fiume ritorna ad essere fiume, quindi magari si tolgono gli alberi in alveo, stanno ricostruendo e strutturando gli argini. È pronto l'appalto per l'escavo della parte terminale del nostro fiume. C'è un progetto per il rifacimento del ponte che verrà rifatto molto simile a quello che riguarda me a quello attuale e tanti interventi, sì perché il nostro fiume è un fiume pericoloso. Il rischio idrogeologico. Esatto, è molto importante. Diciamo che dopo 40 anni finalmente la regione ci ha messo in mano, in mezzo ci sono state le nostre vittime, ci sono stati i disastri e c'è stato anche qualche strascico che ci vorrà un po' di tempo per recuperarlo, ma la verità alla fine viene sempre fuori. E si dovrà attendere ancora un po' di tempo. Sì, esatto, però noi sappiamo. Adesso abbiamo capito tutti che il fiume è della regione, fa gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, deve rifare gli argini, deve scavare, deve fare la vasca. Quindi competenza completa in questo caso. Sì, per tanto tempo abbiamo discusso di altre cose, oggi almeno questo l'abbiamo sicuramente chiarita. Ritorniamo un attimo sul lungomare perché c'è anche un progetto di restyling appunto sul lungomare Mameli. Ma adesso il lungomare nostro avrebbe bisogno di un rilancio almeno al pari di quello che abbiamo fatto dentro il centro storico, sì, rifacciamo un po' di asfalti e risistemiamo un po' il lungomare Mameli che oltre al muretto Parasabbia era in condizioni sicuramente non ottimali. Partiremo con i lavori subito dopo questa sosta natalizia per farci trovare pronti nella stagione estiva. Ed è partito anche il cantiere della ciclovia adriatica. Sì, abbiamo consegnato i lavori questi giorni. Io penso che quello sia veramente una grande opera. Era semplice, però la ciclovia adriatica collega Fano attraverso Mondolfo a Senigallia. Queste tre città si sono presentate con un progetto insieme. Questa è una cosa molto molto bella con i tre sindaci che hanno sostenuto fortemente questo progetto e ognuno ne realizza un pezzo. Poi avremo anche un bel collegamento sul Cesano perché la regione mette a disposizione delle risorse importanti proprio per realizzare un ponte sul Cesano e quindi collegare Marotta e Fano a Senigallia. State pensando anche alla micromobilità elettrica? Sì, sì. Sì, adesso c'è stato questo bel provvedimento. Stiamo strutturando le zone 30 in modo da consentire a questa nuova mobilità. Magari evitando il transito sulle strade più trafficate. Esatto, quelle più trafficate, quelle un po' più pericolose. Però dobbiamo ripensarla perché le bike adesso vanno, adesso vanno i monopattini elettrici. E se le piste ciclabili potrebbero transitare. Esatto, lo dobbiamo fare perché è un altro modo di affrontare la città. Noi siamo stati precursori intanto con le piste ciclabili. Penso che anche questo segno lo dobbiamo dare. Ed è anche tempo di bilanci preventivi. Ricordiamo che la delega è la sua dopo le dimissioni dell'assessore. Si è parlato un po' di terremoto all'interno del Partito Democratico. Ci può raccontare un po' che cosa è successo? Il terremoto non è sicuro, sul piano amministrativo nessun effetto. Dico che sul piano personale c'è un po' di rammarico perché con Gennaro, posso dire, di essere amico e con un rapporto di oltre 20 anni ha fatto questa scelta. Molto probabilmente vuole continuare un impegno civico da solo. Io avrei fatto altre cose. Però ci sta, ci può essere l'ambizione, ci può essere anche un momento di quello elettivo a Senigallia, quindi forse si giocherà quella carta che solo dentro il Partito Democratico, anche perché dopo 20 anni uno magari può decidere di fare qualcos'altro. Ha già pensato anche alla riassegnazione in questo caso? Ci sto ragionando. Non c'è fretta perché ho una squadra coesa, ho una struttura molto importante. È una dirigente, Laura Filonzi, che sul bilancio penso sia una delle più preparate su scala regionale, quindi non è un terremoto. Nei prossimi giorni deciderò. Fra pochissimi secondi torneremo a parlare di questo bilancio preventivo perché ci sono tanti progetti in cantiere, ma mi dicono che abbiamo una telefonata. Sentiamo che c'è in linea. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Andrea. Volevo fare una domanda al signor Sindaco. Per quanto riguarda la spaltatura delle strade, siccome io non sono di Senigallia ma quasi tutti i giorni vengo nel vostro comune con la macchina e qualche volta anche in bici, volevo, ma sicuramente voi già la conoscete, per quanto riguarda la strada statale 16, dal rotatore dall'Ipercop fino alla Cesanella, lì la strada è bruttissima, sia con la macchina che anche in bici. Molto molto pregolosa perché sono molti anni che è in quello stato e mi fa un po' pensare che lì sia passato il giro d'Italia, mi sembra, e la strada è ancora in quelle condizioni e c'è in prospettiva che ripassi ulteriormente il giro d'Italia. Lo so che non è di competenza del comune, ma dell'ANAS. Il comune può fare qualcosa per far morire l'ANAS, visto che prima nella zona di Montemarie, di FCA, oppure sono asfaltato di strada che era bella. No, sì, no, Andrea ha ragione, intanto non è vero che dell'ANAS è del comune, quindi alzo la mano e tocca a noi, ahimè tocca a noi, è una di quelle strade che l'ANAS ha declassato e ci ha passato le competenze ma non le risorse, quindi l'ultima volta l'aveva asfaltato l'assessore Mangialardi tanto tempo fa, eravamo nel 2004 quando abbiamo asfaltato completamente quella strada, è vero, ha bisogno di un intervento, nel frattempo abbiamo fatto la complanare che quindi alleggerisce, io penso che nel prossimo mandato dovrà essere particolarmente attenzionata la statale. Abbiamo tanti cantieri, dallo stradone Misa al già citato Lungomare Mameli, tante strade che stiamo asfaltando, ci dovremmo concentrare anche su quello, sì ha ragione Andrea. Comunque continua a venire a Senigallia che noi l'aspettiamo. Sì, Nacole, scrivono da una delle spiagge di Senigallia per fargli complimenti, insomma per tutto quello che ha fatto in questi anni, ci hanno inviato anche delle fotografie che purtroppo in tempo reale non riusciamo a farvi vedere, che riguardano un'isola ecologica a Borgo Ferretti, ci sono insomma un po' di problemi, tanti rifiuti, tra l'altro è presente... Sono cose strane perché non sono isole ecologiche nostre, non sono del comune, sono di privati, sono delle case che stanno lì, noi a Senigallia non abbiamo più strutture pubbliche su suolo pubblico, tranne che per il centro storico che ci sono quelle che si chiamano isole ecologiche, se no è tutta raccolta differenziata porta a porta, alcune realtà si organizzano mettendo delle isole ecologiche gestite da loro e qualche volta però si creano situazioni di quel tipo. Avete pensato anche di installare delle fototrappole per... Esatto, esatto, no no no, ci stiamo lavorando. Stamare questi furbetti dei rifiuti... Ci stiamo lavorando e ci sarà qualche bella sorpresa nei prossimi giorni perché comunque queste macchine fotografiche moderne ci consentano di essere posizionate e certificate in qualsiasi punto e chi abbandona, ne stiamo individuando diversi, chi abbandona rifiuti, saremo particolarmente severi perché vedete abbiamo un centro ambiente a Marzocca, un altro centro ambiente a Sant'Angelo, il centro ambiente all'uscita dell'autostrada, raccolta porta a porta, il recupero degli ingombranti a casa non c'è una scusa al mondo per lasciare nemmeno un sacchettino in giro, nemmeno uno, quindi siccome poi quei servizi li pagano tutti perché poi li ripaghiamo tutti, bisogna sanzionare chi non ha una conduzione adeguata. Maurizio per me sei un sindaco molto umano, i tuoi progetti sono molto utili, grazie da parte di una cittadina che ti segue e insomma sindaco le augurano buon lavoro. Grazie, è molto bello. Andiamo avanti con i messaggi, buonasera io gestisco un'attività turistica a zona mare e sto subendo come tantissimi altri le azioni di un senza tetto da tutti conosciuto che fa sparire a Castonetti e sparge un po' i finti comunque. Eh questo è un problema vero. Questo avviene da alcuni anni ma ultimamente la situazione ci dicono è peggiorata e non sappiamo più come fare, l'amministrazione comunale può prendere provvedenti a riguardo? No, no, ha ragione, sono vicino perché stavamo parlando prima di isole ecologiche, abbiamo un paio di situazioni che sono determinate da nostri concittadini, ahimè lo dico, concittadini che hanno problemi di carattere sociale, comportamentale, mentale pure, non è semplice, non è solo semplice senza tetto, sono persone con difficoltà che poi prendono i cassonetti privati, li spostano, li accumulano, la situazione è difficile, siamo già intervenuti anche per trattamenti sanitari perché c'erano situazioni anche di degrado complessivo però non è così semplice. Ancora complimenti per lei, il sindaco è il top, gestisce il turismo come a Rimini. Queste sono cose molto belle, magari qualche volta... Non li conosciamo, eh? Vorremmo fare anche meglio di Rimini anche se sono molto amico di Andrea. Dicevamo del bilancio, del bilancio preventivo, partiamo dal dragaggio visto che anche questo è importante. Il bilancio preventivo adesso è un po' complicato, come in tutte queste situazioni di governo sarò proprio dopo domani a un confronto come Anci con il Presidente Conte per restituire tanti soldi ai comuni che nella prima fase il governo ci ha tolti e quindi i bilanci saranno contenuti per chi li approva entro il 31-12. Poi speriamo che invece il lavoro che stiamo facendo ci vengano restituiti e dentro questo ci sono tanti interventi previsti per la città come risorse che quelle però arrivano dalla regione per il dragaggio. E poi il cimitero delle Grazie anche qui insomma verrà sistemato un problema. Siamo in grande difficoltà con i loculi e quindi grazie Montignano-Roncitelli entro gennaio avranno i loculi prefabbricati e quindi come avete visto trovate la posta all'interno del bilancio di previsione 2020. Tanti progetti anche per le scuole, ad esempio la scuola Fagnani previsti 2,3 milioni di euro. Sì, su questo il governo, su un fronte dicevamo prima e sono particolarmente articolati sul fronte scuola e sono arrivate risorse importanti. Abbiamo messo a norma la Pascoli, adesso facciamo sulla Fagnani, abbiamo un grande progetto per il nord della città, quindi la zona della Cesanella. Sì, tante risorse che arrivano dal... Abbiamo concluso i lavori del Ballone, tante risorse che arrivano dal governo centrale. Buonasera, volevo chiedere al Sindaco quanto sarà possibile fare un'area camper attrezzata? Beh, questo è vero, il turismo plenera ha un grandissimo valore, purtroppo in questi anni per le strettezze economiche le abbiamo solo individuate nel nostro piano regolatore ma non le abbiamo realizzate. Ecco, io spero che poi ci sia questa possibilità anche per chi non vuole utilizzare le tante importanti strutture ricettive in campo dei campeggi della nostra città, però ci stiamo lavorando. Le chiedono anche se fosse possibile avere una fermata autobus linea scolare in via Fonte Nuovo. Sì, va bene. Io penso che nell'ambito della mobilità dovremmo fare un bel ragionamento con la regione perché abbiamo bisogno di più chilometri per i nostri mezzi pubblici in modo che potremmo servire maggiori zone periferiche. Il torrente in zona Vivere Verde ha le canne altissime e anche molto fitte che prendono tutto l'ipotetico percorso dell'acqua, i fiumi e i torrenti andrebbero puliti. Beh, sì, sempre nell'ambito delle competenze, quello lo deve fare sempre la regione. Ricordo per chi parla della parte terminale del via Fonte Nuovo, appunto zona Vivere Verde, che quell'operazione di pulizia del fosso è stata fatta non più tardi del 10 di agosto. Quindi in piena estate, anzi creando anche qualche un po' qualche disagio, però quasi siamo nelle condizioni pre-intervento. Ha pensato a pedonalizzare la città, ma non crede che senza parcheggi la gente eviti il centro? Le chiedono. Ma io sì, di questo che ho pedonalizzato tanta città ormai dopo 10 anni, quindi a fine mandato sono proprio orgoglioso, anzi dovremmo spingere di più perché le città si vivono meglio. Il tema dei parcheggi è quasi più percepito che reale, perché noi per esempio abbiamo la zona stadio dove ci sono 500 parcheggi e che di fatto sono gran parte vuoti, forse dovremmo essere più bravi a promuovere le zone dove c'è la sosta, ahimè, dico sì, sosta a pagamento, però anche con tariffe sicuramente non comparabili a quelle che troviamo nelle altre realtà dello stesso livello di Senigallia. Sono stati stanziati anche circa 40 mila euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi in diverse zone? Sì, lo stiamo facendo, siamo partiti con i lavori in tante zone, ovviamente quello è un lavoro infinito, però si vede che abbiamo recuperato qualche spazio finanziario per fare gli investimenti che fino a due anni fa erano proprio impensabili, tutti i comuni erano con le strade, come dicevamo prima, come la statale adriatica e avevamo tanti chilometri da dove dovevamo intervenire. Oggi qualche bel segnale riparte. E andiamo avanti con le piazze, domenica intanto la prima inaugurazione, poi ci sono anche i progetti. Ma quella di domenica è una cosa molto bella, stiamo restituendo un pezzo di città che due generazioni non ha mai visto. C'era prima un bottonificio, poi c'è stato un cinema all'aperto con il degrado, con una situazione assolutamente insopportabile. Oggi siamo invece nelle condizioni di restituire un luogo che ha un'ulteriore piazza, ha la valorizzazione della Porta Lambertina, ha le mura urbiche recuperate e una garitta che non si era mai vista e che avremo modo di intercettare, anche illuminata dai porti cercolani. E' tutti insieme, quindi invito anche per domenica alle 16.30. E poi dicevo anche restare in di piazza Simoncelli, questo è un progetto? Sì, però siamo molto vicini alla conclusione progettuale, spero che prima della fine del mandato si possa vederla almeno aperto come cantiere. Sì, un altro pezzo che andiamo a pedonalizzare. C'è una proposta che tiene conto della storia, forse va anche un po' ricalibrata, però verrà un gioiello anche questa alla pari di piazza Garibaldi. Avete previsto, Sindaco, la ristrutturazione della struttura in legno all'ingresso del Porto di Senigallia? Sì, stiamo partendo con i lavori. Quello che era stato oggetto dell'incendio dello scorso anno, l'assicurazione ha liquidato l'importo coprendo l'intero intervento, quindi anche questo per la prossima stagione sarà realizzato e restituito nella sua bellezza. Chiedono anche la sistemazione, se non tutta, a spese comunali della Giardino Scuola Infanzia Cesano. Sì, qui c'è una bella proposta dei ragazzini e delle ragazzine della scuola. Ci stiamo ragionando per capire come si può intervenire, perché ha bisogno, come si dice, di una rinfrescata, senza dubbio. Andiamo avanti con l'ex Politeama Rossini. Qui ci sono un po' di difficoltà, perché in realtà l'area è di proprietà di un istituto di credito che è appunto la messa in vendita, cioè è un vincolo della sovrintendenza. Lei comunque lo vorrebbe demolire per realizzare un giardino? Ma vedete, il Politeama Rossini è in un luogo strategico della nostra città. ha di fronte il Palazzo del Duca e di fianco la Rocca Roveresca. È un'area privata, c'era un progetto, ha fallito lì, sono falliti tutti, ha fallita l'impresa, ha fallita la banca, ha fallita la finanziaria. Ritengo che cogliendo quest'occasione di un edificio che è lì da tanto tempo, che può rimanere per almeno altri vent'anni in quel modo, forse conviene demolirlo e realizzare un bello spazio verde a servizio della Rocca e della nostra città. La rotatoria alla penna quando verrà iniziata e terminata? Se già potesse partire io sarei un sindaco felice. Siamo ormai in direttura d'arrivo rispetto alla bonifica. Io spero che per il prossimo anno di vedere almeno il cantiere tutto bonificato, le case demolite e la rotatoria almeno con gli interventi provvisori realizzata. Ci chiedono anche maggiori potature. A proposito, è stato autorizzato l'abbattimento di Settipini in Viale Nita Garibaldi. Qui c'era un problema legato anche alle radici, un po' pericolose per pedoni ciclisti. Lì su Via Nita Garibaldi come su Via De Bosis siamo in grandissima difficoltà. Bisogna riprogettare quel viale perché ormai gli alberi sono in una situazione tale da rendere incompatibile la viabilità in quella strada. Quindi quei sette previsti sono quelli che sono stati soggettati a valutazione di stabilità arborea e vanno abbattuti. Però lì c'è bisogno di riprogettare completamente perché non si può intervenire scarificando e asfaltando perché sennò cadrebbero tutti gli altri e quindi non è il caso. Ultimo messaggio prima di fermarci per qualche istante. Le chiedono il bike sharing quando potrà essere rimesso in funzione. Le biciclette gratuite sono molto comode anche per i vari spostamenti. Sì, perché siamo partiti quando gli altri non lo facevano. Quindi ormai le biciclette si erano compromesse. Ma abbiamo fatto un bel progetto sempre con Fano e con Mondolfo dove è previsto il bike sharing. Quindi siamo pronti per rintrodurre questi importanti servizi. Torneremo fra qualche istante a leggere i vostri messaggi. Parleremo anche degli eventi natalizi in chiusura perché ci sono tante novità. Ma ci fermiamo per due minuti circa. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Senigallia Mangialardi. Dunque sindaco, hanno chiamato poco fa a Regia per avere informazioni sulle tombe ipogee. Cosa ci può dirci riguardo? Un grande tema, un grande problema. Purtroppo la dirigente Filondi è stata costretta a emettere una ordinanza per il non utilizzo di queste tombe che sono sottoterra e che essendo ambienti confinati sono pericolosi e quindi vanno trattati con delle modalità. Stiamo studiando, abbiamo già preparato una serie di soluzioni ma siamo assolutamente disponibili con i cittadini, con i tecnici per migliorare anche la proposta che abbiamo fatto. Sì, sappiamo che ci sono 1500 di queste situazioni e speriamo di trovare una soluzione perché comunque come era accaduto finora non poteva essere più utilizzata. Le tumulazioni con quelle modalità non possono essere più realizzate. È possibile invece allargare il ponte bianco che unisce i due canali del mare, magari come quello di Fano? Ci chiedono? Sì, se devo dire la sincera verità abbiamo già un pro progetto e abbiamo anche un finanziamento. Non è nemmeno un ponticino, è una passerella. Purtroppo il precedente governo ha bloccato i finanziamenti come quello con il bando delle periferie e siamo incappati in quel ritardo e lo stiamo scontando. Speriamo che nel prossimo periodo si possa recuperare. Quando apre il sottopassaggio della Cisanella le chiedono? Finito. Sto trovando solo la data per inaugurarlo. Forse il 15 di dicembre una bella opera, non bella ma sicuramente funzionale. Ci consente di passare sotto la statale e poi abbiamo un'altra possibilità di collegarci con il lungomare. Quindi tutta quella frazione importante della nostra città avrà un passaggio pedociclabile in sicurezza. Ancora messaggi per lei. Le dicono signor Sindaco è necessario per la sicurezza stradale di pedoni ciclisti, motociclisti e auto nonché di coloro che vi risiedono di rendere a senso unico via Stradone Misa e costruirvi un adeguato marciapiede con annessa pista ciclabile. Ma intanto via Stradone Misa l'asfaltiamo. Poi io penso che quando sarà completato il progetto della complanare con il nuovo collegamento tra il viale dei Pini con la nuova rotatoria ex casello si potrà ragionare anche su quel senso unico che sicuramente potrà contenere un collegamento pedociclabile. Ringraziamo intanto i suoi concittadini perché ci stanno scrivendo davvero in tanti Bene, bene, vuol dire che Fano TV è molto seguita dalle nostre parti. Ma che seguono anche lei quindi questa è un'occasione come diciamo sempre per parlare direttamente con il Sindaco e ne siamo felici. Le strisce blu vengono fatte subito e invece quella degli invalidi non si vedono più. Idem le strisce pedonali e quindi se si può fare qualcosa. Adesso le strisce blu sono fatte con le stesse modalità delle altre stiamo intervenendo su tanta, sulla segnaletica orizzontale spesso però sono compromesse dal manto non adeguato, questo è vero però stiamo facendo anche un bel lavoro con la segnaletica orizzontale. Ci chiedono in diversi informazioni sulla questione al centro di compostaggio del Vallone se avete preso in considerazione la problematica. Non solo abbiamo preso in considerazione la problematica ma abbiamo fatto tutto quello che serve per riportare a una conduzione adeguata quell'impianto. sono provvedimenti della procura e dell'ARPAM e della regione quindi tutto sotto controllo perché sappiamo che per il Vallone non solo quello è un grande problema. Sulla chiusura della pescheria invece? La chiusura della pescheria è un bel progetto che abbiamo finanziato non vuole chiudere uno spazio, anzi lo vuole aprire vetrate un po' sulla scorta di quello che ha fatto Pesaro che possono essere utilizzati quegli spazi anche per attività durante l'inverno soprattutto dedicati ai giovani quindi secondo me è proprio un bel progetto. C'è un'altra telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, sono del comitato cittadino dell'ospedale di Senigallia volevo fare una domanda al signor Sindaco E non solo del comitato cittadino dell'ospedale perché Silvano ha n comitati a quale fa riferimento? Prego Sì, il problema signor Sindaco è che le cose non vanno e allora i cittadini si devono riunire in comitato comunque stasera la interrogo solo sull'ospedale Noi abbiamo un ospedale che è stato declassato ha perso 8 unità operative complesse ha altre 3 o 4 unità operative con facente funzioni quindi senza primario e tutto questo nella nostra area vasta 2 a vantaggio di Iesi e Fabriano perché il signor Sindaco non ha mai ascoltato le nostre richieste in merito ad un innalzamento della qualità del nostro ospedale in questi 5 anni? Grazie Intanto vorrei chiederle questo da noi la competenza è regionale della sanità anche se i vari sindaci possono battersi per ottenere servizi, diritti e quant'altro immagino che funzioni così anche a Senegaglia però mi corretta se è la stessa modalità poi parla con il presidente dell'Anci Marche con il coordinatore dei sindaci dell'area vasta 2 conosce molto bene le problematiche io dico che dentro processi di riforma non si possono contare le unità operative complesse che sono state tolte perché non sono state tolte ma sono state ridistribuite che è una grande cosa l'ospedale di Senegale è una struttura importante di grande riferimento regionale guardate il punto nascita tanto per prenderlo da riferimento ha delle difficoltà ma come può essere Trafano e Pesaro per l'individuazione una riorganizzazione generale di tutti i sindaci però non è in quei termini non è in quei termini anzi io sono molto orgoglioso della struttura sono stati fatti tutti i primariati abbiamo fatto il primario qualche settimana fa di pediatria adesso arriverà quello della ginecologia quindi un processo non è d'accordo con quanto è stato detto? Silvano chiama per le tombe ipogee per l'impianto di Cesano per tutto quello che si tratta di antagonismo vero però non c'è mai una proposta era tanto che non parlavamo più di ospedale ho capito che siamo ritornati su quel tema però mi sento di rassicurare sempre i nostri concittadini perché il comitato fa anche dei danni perché se uno pensa che l'ospedale sia declassato uno potrebbe scegliere di andare a fare un'operazione da un'altra parte un intervento da un'altra parte noi abbiamo dei primari eccezionali abbiamo dei medici incredibili abbiamo del personale che si dedica e lo fa sapendo che anche in situazioni qualche volta molto difficili perché spesso manca del personale perché il vero tema è questo però è un ospedale che ha un grande protagonismo sul territorio Sindaco, il sottopasso pedonale di Borgo Molino verso via Capanna? Abbiamo proprio oggi in giunta approvato il progetto esecutivo spero che la MD che è la proprietà di una struttura commerciale che lo deve realizzare di sua sponte proceda al più presto possibile c'è un piccolo problema con l'interferenza di società autostrade ma lo stiamo risolvendo Parlavamo prima un po' del centro storico in realtà c'è un bel progetto di recupero Sì, lo dicevamo prima con la piazza ma non solo il centro storico è un cantiere infinito fatto di tanti privati che stanno intervenendo e che grazie al nostro piano sta producendo degli effetti di riqualificazione del privato e della costruzione della città pubblica e quindi il nostro centro storico stavo guardando la foto che ho dietro le spalle è fatto di quelle cose lì che sorprendono qualche volta anche per bellezza e in parte lo fa il pubblico ma tanto lo sta facendo il privato in questo momento E anche in questi ultimi anni mi ricordo anche lo scorso anno parlavamo sempre del restaring del centro storico quindi lavori continui per migliorare effettivamente Spero che possiate capitare nella nostra città si vedranno tanti cantieri di recupero di facciate del centro storico e questo è anche un bel segno anzi spero che il provvedimento normativo per il recupero fiscale degli interventi sulla riqualificazione delle facciate produca ulteriori effetti perché quando abbiamo case che recuperano un piano che risistemano la loro facciata che intervengono significa poi ritrovare la residenza dentro il centro storico che penso che sia un bel segnale Sindaco, noi abbiamo un dovere anche di replica in questo caso ci arriva da Silvano che gli dice l'ospedale è stato penalizzato mancano otto primari e sono andati a Iesi e Fabriano Sì, questo è un dibattito che è infinito quelli di Fabriano dicono che mancano che gli hanno chiuso il punto nascita e gliene mancano otto quelli di Iesi che non hanno il pronto soccorso che funziona e gliene mancano altri otto quindi sono numeri che così sono da interpretare Le chiedono se può bloccare il 5G è deleterio per l'umanità ci dicono Ma guardate, intanto vorrei bloccare il 4G e vorrei bloccare anche il 3G nel senso che noi viviamo tutti con questa cosa in mano e poi ci dicono che il 4G fa meno male del 5 In realtà insomma i danni forse Non lo so ma sicuramente non può essere un sindaco che blocca un'evoluzione scientifica di quel tipo Digitale? Sì, assolutamente Sindaco, parcheggio a pagamento all'ospedale di Senigallia a volte capita andare per aiutare un parente tre volte al giorno non ci si dovrebbe approfittare di queste situazioni se non ricordo male lei ha chiesto però una riduzione Sì, intanto voglio spiegare questo Il parcheggio è un parcheggio gestito da un privato Scusate oggi Non si preoccupi La notte l'ho passata così e abbiamo cercato di gestire quello che aspetta il pubblico le tariffe La prima mezz'ora è gratuita Il resto è veramente abbordabile per la disabilità è gratuita Quindi Insomma c'è stato questo Sì, è ovvio che quando è passato da libero a pagamento perché il privato che il nuovo gestore sarà il nuovo gestore del parcheggio e su via Cellini ha creato un po' di disagio però intanto abbiamo recuperato anche tanti spazi che prima erano complicati da mettere a disposizione dei parenti Andiamo avanti ancora con i vostri messaggi Non potrebbe essere utile incentivare qualche privato alla realizzazione di un campo da golf sport molto utile anche per il turismo e per le persone con difficoltà Che cosa ne pensano? Dico magari Dico magari che se ci fossero privati che hanno voglia di investire l'amministrazione è assolutamente disponibile Lo vediamo con lo stadio abbiamo trovato un privato che vuole investire risorse importanti e trova nell'amministrazione comunale sicuramente un interlocutore attento perché questa è anche una modalità per riqualificare e per attrarre turismo come ci serve tanto per le nostre zone Questo stato di salute oggi non l'ha fermata? No Ha avuto diverse riunioni? Possiamo parlare anche di illuminazione della rocca? Sì, abbiamo chiuso un percorso abbiamo avuto l'autorizzazione da parte della sovrintendenza rispetto all'illuminazione della rocca che oggi non è particolarmente valorizzata durante le ore notturne per la prossima estate sarà un bel gioiello illuminato in modo adeguato Sindaco, i commercianti che hanno avuto danni dall'alluvione ancora non hanno ricevuto nessun risarcimento A che punto è la situazione? Ne ha conoscenza? Noi abbiamo gestito i danni per i privati abbiamo licenziato tutto nei tempi adeguati il provvedimento invece per le aziende e le attività lo sta gestendo la regione so che erano comunque a buon punto per liquidazioni Quando risistemerete la palestrina della pista di atletica ci specificano che si riferisce a quella delle saline Sì, io vorrei dire molto presto perché è previsto dentro il project della gestione dell'intero impianto delle saline che non deve rifare solo la palestrina ma deve rifare anche il campo da tennis sistemare la piscina e fare investimenti per oltre 3 milioni di euro abbiamo purtroppo però un contenzioso e spero che il 17 di febbraio questa parte di contenzioso tra le parti venga risolta per consentire anche di realizzare la palestrina Sindaco, io direi se è d'accordo di chiudere con gli eventi natalizi perché insomma è quasi alle porte molti comuni già hanno presentato le varie iniziative e tante anche quelle che si svolgeranno nel comune di Senigallia è saltata la pista di pattinaggio quest'anno Sì, come allo scorso anno noi puntiamo molto sulla bellezza della nostra città non abbiamo cercato nemmeno effetti eclatanti abbiamo la valorizzazione dei nostri luoghi da piazza Garibaldi al corso a tutte le vie un'illuminazione sobria ma elegante tante tante iniziative messe in campo dalle nostre associazioni che andranno ad animare dal 30 che accenderemo le luci fino al 6 di gennaio tutta la città dentro questo ovviamente ci stanno le mostre perché avremo la possibilità di visitare i nostri luoghi espositivi abbiamo una mostra eccezionale quella di Oliviero Toscani e un teatro che ha 600 abbonamenti è una stagione molto importante quindi anche nel periodo natalizio quindi una città che si presenta secondo me molto bene elegante, sobria e di qualità ed è stato chiuso insomma anche l'accordo per quanto riguarda le luminare quindi sei da buon punto abbiamo proprio finito il Bus Navetta ci sarà? anche il Bus Navetta che andrà a potenziare le occasioni di sosta che sono perimetrali il villaggio natale poi il presepe, la casetta di Babbo Natale tanta tanta città bella per chiudere l'albero? ci sarà un momento per l'accensione? sì molto bello quest'anno abbiamo deciso ormai da tre anni di questi alberi un po' innovativi siamo pronti il 30 alle 18 apriremo il nostro Natale benissimo speriamo di poter essere presenti Sindaco grazie davvero per essere stato nei nostri studi grazie a voi mi fa molto molto piacere poi vedo che i miei tanti concittadini vi seguono quindi io sono a disposizione quando vorrete grazie di nuovo al Sindaco Mangialardi io ringrazio voi per la vostra attenzione ringrazio anche in regia Riccardo Sorai e Cristiana Guerra fra poco entra in onda vi ricordo la replica del nostro telegiornale il Tg di mezzasera vi ringrazio di nuovo e buon proseguimento di serata buonasera a tutti